Salve a tutti, sono Rosy Luca, osteopata e titolare del centro medico Fisiosalus. Oggi voglio raccontarvi del mio sogno che è diventato realtà. Fisiosalus nasce nel 2015 da una superficie di 60 metri quadri e contava 3 fisioterapisti. Oggi la nostra equip è formata dai migliori medici, osteopati, fisioterapisti, kinesiologi che ci sono nel settore sanitario e conta 60 professionisti su una superficie di circa 800 metri quadri. Abbiamo creato tutto questo per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e sviluppato soprattutto dei percorsi terapeutici che puntano alla prevenzione della salute. Tutto ciò è stato possibile attraverso il continuo aggiornamento, impegno, studio di ogni membro del nostro staff andando sempre alla ricerca del meglio per i nostri pazienti. Non c'è nulla che è più caro che la nostra salute e Fisiosalus è qua per questo. Il regalo di Natale la Visnova Alba se lo fa in anticipo. 2 a 1 all'agrifo sigillo e 3 punti di platino per la colza a salvezza firmati da Bocciarelli e dal nuovo acquisto Malocai. 3 minuti e Yelpo impegna Farinelli con un sinistro che il portiere, ex della partita, blocca sicuro. Risponde la nuova Alba al sesto con questa conclusione di Segoloni respinta da un intervento provvidenziale di Pappafava. Ancora locali in avanti ma la girata di Bocciarelli è facile preda di Brunetti. Al dodicesimo è Favaroni a raccogliere una corta respinta di Giacometti, palla deviata in corner. Sugli sviluppi dell'angolo è Lachdarra a impegnare severamente Brunetti. Il portiere ospite protagonista anche poco dopo nel disinnescare una conclusione potente di Favaroni. Rischia nuovamente il sigillo quando Lachdarra mette un pallone insidioso dalla destra sul quale Segoloni non arriva di un niente. Ci va vicino anche Battaglini il cui colpo di testa termina a lato. Il sigillo non resta a guardare, si rende pericoloso con una conclusione di Chiocci che va fuori non di molto. Al ventiseiesimo protesta la Nuova Alba per questo intervento in area da anni di Favaroni, ma per Agostini di Terni non c'è nulla. Al trentaduesimo padroni di casa in vantaggio. La conclusione di Cervini colpisce il palo e sulla respinta il più lesto è Bocciarelli che insacca il meritato 1-0. Al trentanovesimo locali vicino al raddoppio e sul colpo di testa di Battaglini ci vuole un superman Brunetti a negare il gol. Termina dunque la prima frazione sul punteggio di 1-0. Le riprese di Leonardo Cesaroni ci portano al secondo tempo che si apre con questo colpo di testa di Cabraui che sorvola la taversa. Da lì in poi la fanno da padroni contrasti. Così si arriva al ventiseiesimo. Errore in costruzione del sigillo e il nuovo acquisto Malokai ruba palla Brunetti che deposita in rete il gol del raddoppio. Piove sul bagnato per gli ospiti che al trentottesimo rimangono in dieci per l'espulsione di Frondizi. Sigillo che poi si rende pericoloso con un batti e ribatti di Gaggioli che spreca e poi torna in partita al quarantunesimo con il nuovo arrivato Ache che raccoglie uno scarico di Buonaventura e deposita alle spalle di Farinelli. C'è tempo anche per la traversa di Malokai, ultima occasione di questa partita. Vince dunque il nuovo Alba che chiude il 2022 al meglio. Di Rez è arrivata una sconfitta dopo un primo tempo che vi ha visto un po' in difficoltà in particolare a centrocampo. Poi il secondo tempo siete venuti fuori? Sì, esatto, il primo tempo abbiamo giocato male, obiettivamente non avevamo le distanze giuste e facevamo fatica a ripartire, quindi loro ci hanno messo in difficoltà e sono andati meritamente in vantaggio. Il secondo tempo, secondo me, siamo entrati con uno spirito diverso, cercavamo proprio di poterla pareggiare alla partita e secondo me c'erano anche le condizioni. espulsione così, dove un centrocampista nostro entra e prende la palla netta e quindi ce l'ha ancora lui sui piedi, quindi essere ammonito per la seconda volta è espulso, secondo me, ripeto, l'arbitro qualche errore l'ha fatto, però chiaramente non lo prendo come una giustificazione, chiaramente poi vai in difficoltà, giochi in dieci, deve recuperare e poi c'è anche da dire che il secondo gol è nato su un'incenità nostra e questo è rimasto un po' ha peggiorato la situazione, chiaramente è rimasto un po' lo spiro per cercare di recuperare, però è chiaro che oramai la partita è una compromessa. È un sigillo che comunque gira 21 punti, come valuta questo girone andata? Io lo valuto secondo me in base a quelle che sono le nostre potenzialità, sicuramente forse qualche punto in più lo potevamo avere, ma questo sta alle partite che abbiamo fatto e credo che tutto sommato sia anche una buona posizione. È chiaro che il giorno di ritorno diventerà un altro campionato, anche perché basta vedere la nuova Alba che hanno preso altri giocatori, altre squadre sono rinforzate, chiaramente diventerà sempre più complicato raggiungere l'obiettivo il prima possibile, però noi lo sappiamo, quindi faremo di tutto per venire fuori il prima possibile, chiaramente. Binaglia, capitano della Viz Nuova Alba, una vittoria fondamentale che oltre alla classifica vi dà anche morale, credo. Sì, era importante per noi dare continuità al risultato di domenica, cosa che da inizio anno c'era mancato e ci permette di continuare a lavorare bene come facciamo e di passare un Natale tranquillo, preparandoci per la ripartenza.